Un nuovo sistema di illuminazione dell'Aquila che sia funzionale, efficiente e vantaggioso economicamente, ma che allo stesso tempo valorizzi tutte le bellezze architettoniche della città. L'iniziativa è del Comune dell'Aquila, che vuole dare una nuova vita alla città, hanno spiegato gli assessori alla ricostruzione dei beni pubblici, il vice sindaco Raffaele Daniele, e alla promozione dell'immagine della città Fabrizio Aquilio, nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta in Comune. Questo anche attraverso le nuove tecnologie, hanno detto, promuovendo una nuova cultura della luce, con l'obiettivo di progettare un'illuminazione efficace, flessibile, dinamica, energeticamente efficiente, di elevata qualità. Sentra a trascurare però l'innesto di queste innovazioni in fatto di illuminazione in quelle zone del centro, delle periferie delle frazioni, che al momento hanno un deficit strutturale in questo senso. L'intervento vedrà un confronto con la sovrintendenza e mirerà, oltre che a valorizzare il patrimonio storico, e monumentale dell'Aquila, anche ad inalzare gli standard di sicurezza e vivibilità. Le ipotesi di progetto saranno approfondite nel corso di una giornata di studio, che ci sarà il 25 febbraio. Sarà moderata da Francesca Storaro, architetta e figlia del premio Oscar e cittadino onorario dell'Aquila Vittorio Storaro. L'iniziativa gode del supporto del settore e rigenerazione urbana del comune, e in particolare della commissione consultiva dedicata alle tematiche di arredo urbano e riqualificazione degli spazi pubblici. Dobbiamo dire innanzitutto che questo qui è un progetto che si innesta all'interno di un percorso. Già abbiamo fatto un primo appuntamento sul colore, questo qui sarà sull'illuminazione, poi ce ne sarà un altro sulla pavimentazione e un altro sulla arredo urbano. Sono quattro direttrici molto importanti, cerchiamo attraverso queste iniziative di stimolare il dibattito pubblico in città, affinché poi si pervenga un progetto, una serie di progetti, quanto più appetibili possibili per far diventare il centro storico anche un centro di aggregazione, non soltanto per i concittadini aquilani, ma anche oltre. A me personalmente piacerebbe che ci sia un tipo di illuminazione, attraverso l'illuminazione in diretta ci sia una valorizzazione maggiore dei nostri monumenti del centro storico e che si possano avere, possiamo dire, le luci d'artista tutto l'anno. Quindi pensiamo che con l'illuminazione si può fare urbanistica di alto livello e che quindi possa diventare un attrattore importante.